Yeah, sta già registrando Ma così, senza introduzione Dritti al video, no dai, brutto No, no, non facciamo l'introduzione Solo per avviarla Ma che bella questa sponga Ma qui ti ha portato una cosa? Vabbè, mettiamo qui Ti sento osservata Ok, allora, ok Andiamo dritti al video Yeah, non abbiamo fatto l'introduzione E non fa niente Vabbè, l'introduzione di due secondi E' uscito, addio Sono dalla morte Non è still end Mi ha tornato Non ci credo che lo stiamo vedendo Ok E' un bimbo Non bello Perché è latte? E' un bimbo Un bimbo Scusami Questa è la vostra camera E' un bimbo E' un bimbo E' un bimbo Nooo 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 Perché? Che carica Cioè, non è un bimbo Due secondi, ed è tipo Varo Come la trovo se calcia e faccia E' scherzi E' scherzi Maio il sillo, mano Nooo 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 La maglietta E' un bimbo E' un bimbo E' un bimbo Iai un bimbo Che sonoro Ii non ho capito E' un bimbo 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 Nooo Dove sono belli Ok Dio Ma vai che danno più madonna No, andiamo E mo? Nooo Ma io Bec giù alle parte 2 Oddio Ma questo ne sguardo Molto bello Molto bello questo video Ma Namjoon ha quegli occhi Ma me ne fa che cazzo bellissimo Questo video Guardate il lato Guarda Sto sudandolo Ma le vale la pena Ok Dio Allora Ma non fa proprio questo video C'è una schiazza Ma non fa proprio Ma non fa proprio Ma non fa proprio Ma che cazzo fanno Ma mettete l'altro Ma che cosa fanno? Ma che cosa fanno? Ma che cosa fanno? Ma con il testo ho sentito qualcosa E la parte di Namjoon Dio Ma che cosa fanno? 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 Ok, adesso ascoltiamo la canzone Questi occhiali sono proprio fire Ma che cosa fanno? Ma che cosa fanno? Mario Ok Questi tatuaggi Sì 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 Io metto il suo Dio Sto in edizione Pring a friend Andiamo 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 Ma ho tu Ma ho il suo Il suo belmolo Perché ti tocco Eee Eee E' bene Vabbè Arrivò Dammi 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 Dottore Vabbè Noooo Noo Nooo Noo Nooo Ma io Noo Noo Nooo Eh Noo non sa come hanno pareto a questo video? ma nooo darissimo i tre dietro cazzo è una bimba bellissima ma no che bella la sua parte no no come sono che cazzo ma cos'è? non ho parole solo versi ma ho dei odi ah non so che ci sono di uguale a questo curigimi e andiamo oh yes ah i belli ah i belli ma no quando questa cosa è sempre equivoca c'è proprio fra te ti devi flacare nooo sei sconvolta ma che si fa? ma esattamente come lo sopravviviamo il prossimo come? facciamo cioè io non ho parole ho solo versi è tutto così bello poi cercherò di elaborare perchè questa è una video mi spero va bene se lo siete or dunque dopo questo video let's drink amici è tutto bello fammi si fa a commentare una cosa che dice allora cioè ma no come te elaborati? parla dobbiamo dire qualcosa è stato molto cosa si dice in questi rosa questo video è stato molto esplosivo troppo breve questo video è vero ma quanto? 3 minuti e 43 qua è volato cioè quando abbiamo visto Honna cioè era è il video dei texti che è eterna di 20 minuti ma lo sai che ancora devo vederlo allora comunque ho parere personale si mentre io guardo proprio la rovignano perchè lo so che lo penso di tutto cioè me l'ha fatta a pausa mentre si è un carino si era proprio ero proprio tutto così bello io non ho proprio parole allora la scena iniziale cioè non hanno mai fatto un video del genere no proprio lo stile no nel senso di avevi visto che ha detto Nandun ha detto che loro hanno fatto inglese perchè semplicemente suonava meglio così no perchè capi io tipo presidente presidente vince oh ma lasciamo anche il commento scusami eh vuoi punti sclamativi? eh sì perchè sennò è spam non è spam aggiungo la oh ma l'ho messo mi piace ma che metti pure nei preferiti povere ma ce l'ho bestia ma i Beatles che bello cioè io vediamo la foto di Jimmy le ritengono nello studio così i capiti azzurri sono stati proprio un colpo basso negli riconoscritti la vita è dolci come il mire ce lo vedo proprio bene su il televisivo l'ho avuto è vero madonna è certo è freggio questo è vero andiamo ragazzi ma perchè non l'hanno fatto giocare a basket? un canestro a volo va bella a volo watch me sparare questo lavoro che piace su dopo vogliamo provare ma Jimmy sta troppo finci a tutti ok ma il periodo fatto lo smettete su sfogliato non riesco a smettere di fissare il Gino cioè è tipo uno staring contest mi sento osservata baroo eeeh scusa ma lo vedi c'è Yuki te l'ha lo schiatto ciao Yuki ciao Miao Miao Yuki baroo oh la Yuki oh guarda la visione qua ma perchè ah scusa stavo è passato a B ho dovuto un momento di no dove è avanti ma che cazzo ha fatto ho visto anche John Kuk aspetta l'hai visto? no dov'è l'uscita di la di la c'era una c'era una le croci qua l'Arcangelo Gabriele ma no io ho avuto sempre e l'altro me lo scordo che ma è troppo bella qua mi piace troppo ma no ancora ma no io l'abbiamo visto tre volte e io ancora mi devo ricordare che nooo no non va bene non va vieni 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 esci da questa esci esci sono proprio senza forze dopo questo video mi sento male cioè questo questo oh mamma mia cioè allora mamma mia il convecco che cazzo sarà cioè cosa non avviene allora hai ragione in conclusion in conclusion è tutto così bello che io non ho parole lo ripeto lo ripetisco e e quindi e ma che fai ma il presidente lo tiri così malta è il presidente è la liga ponte d'aria il presidente non sta da maltrattare ma che stiamo dicendo bello faccio le fa quando si concentra ahhh presidente non siamo negli non siamo negli non siamo negli la presidente Jin Yuki sta... Mi ero proprio persa nei suoi occhi Ragazzi, abbiamo fatto reaction a questo video di BTS nuovo canzone completamente in inglese che speriamo le radio trasmetteranno, adesso che non hanno scuse Mi minaccio io personalmente Ok, ok, nella scolta finale trovate la mia cover di Guts Menu degli Steakins Gaia mi fa un po' di broma perché mi vuole bene o ti ho pagato questa volta che ti dice, col mio affetto Mi ha pagata Mi ha pagata E quindi questa è la situazione ovviamente non siamo capaci di fare un video in inglese perché non ci esce e quindi Sì, anche perché international friends, we love you Sì, bello che parliamo entrambi in inglese, però siamo shame Oio, quando arrivai in BTS ci dimenticavamo un video in inglese, solo italiano e quindi streamate il video come la fa volta l'abbiamo detto anche streamate non ricordate niente loop anche se questo esce dopo le 24 ore quindi non lo stesso devo streamare lo stesso e per dire che vabbè tanto qua non ce le toglie le views e mo che ho detto sta cosa toglie anche il mio pizzo e quindi vi salutiamo con Gaia e Jerry io sono Jerry io sono Jerry Tom è il topino e Tom è il gatto il presidente vi dice di streamare perché se streamate il video dite potete vincere il mio rispetto e la mia sincera abilazione Conclusione buona che amici buona che friends buona che addio va 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 noi andiamo a streamare ciao buona che